Ciccio Donnarumma, partiamo dalla sofferenza finale, non passavano più quei secondi. Guarda, era interminabile la partita, non finiva più però siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla niente, ce lo meritiamo tutto, adesso c'è la semifinale, andiamo a giocarcela pian piano verso il nostro obiettivo. Se ti hai fatto diverse parate, ma una straordinaria su De Bruyne, sullo 0-0, raccontacela, come è stata lì? Guarda, io cerco di aiutare sempre la squadra, cerco di dare sempre il massimo, sono veramente emozionato oggi perché la mia prima competizione è importante e quindi il mio obiettivo era aiutare la squadra a andare il più avanti possibile con questa maglia e andiamo avanti e spero di realizzare il sogno di tutti. Alla fine il primo tempo c'è stato quel rigore che probabilmente non c'era, però avete reagito da grande gruppo, siete stati forti mentalmente, questo è uno dei segreti di quest'Italia? Sicuramente, eravamo un po' arrabbiati in spogliatoio, però ci siamo subito calmati perché c'erano ancora 45 minuti da giocare e non potevamo sprecare energie per queste cose qua, dovevamo fare il nostro, dovevamo continuare a giocare e anche nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni per allungare, però l'importante è la vittoria e andare in semifinale e poi ce la giochiamo con tutti. Ciao! Ciao! Ciao!